date due superfici non collegate è possibile creare un raccordo il comando è questo, raccordo diffuso che mi permette di definire due profili di due superfici e inserire una terza superficie di raccordo attraverso anche alcuni parametri di controllo selezioniamo il primo profilo invio, selezioniamo il secondo profilo la seconda superficie in realtà è formata da due superfici quindi ha due raccordi invio viene inserita questa superficie la quale può essere anche definita quindi controllata e ridefinita meglio attraverso una continuità di posizione tangente o curvatura ad esempio sia nella prima selezione che nella seconda la differenza fra queste si può vedere meglio se ci mettiamo a livello frontale facciamo uno zoom selezioniamo la superficie anche perché tutti questi parametri possono essere modificati in seguito posizione quindi è una continuità di posizione di tangenza e di curvatura varia dal minimo al massimo ad esempio di posizione come si può vedere è solamente una continuità di posizione nel senso che la superficie inserita coincide con la posizione della prima superficie ma non ha e non dà soprattutto una continuità di tangenza questa e di curvatura la differenza come si può vedere è notevole quindi la posizione migliore è sicuramente curvatura G2 che è controllata da un parametro visto che siamo in vista laterale vediamo anche altri due parametri che è l'ampiezza di curvatura l'ampiezza di curvatura controlla la tensione esercitata dalla prima superficie la prima è la prima selezionata ovviamente e la seconda quindi la continuità di tensione di curvatura verso la superficie generata ad esempio se noi facciamo con ampiezza e curvatura 0 0.2 ad esempio quindi minore vediamo come cambia la tensione quindi la curvatura se facciamo un 0.1 nella prima e 1 nella seconda la prima avrà un'influenza molto minore sulla generazione della superficie rispetto alla seconda che ha valore 1 possiamo anche aver valori molto elevati ad esempio 3 nel primo e 2 nel secondo in questo caso vuol dire che ognuna di queste superfici generanti la superficie seguente ha un'influenza molto maggiore sulla tensione della superficie chiaramente con un scontro centrale quindi con un problema di curvatura centrale abbastanza significativo se noi riportiamo a 0.2 la seconda vediamo come la prima ha una elevata tensione sulla generazione della superficie mentre la seconda cede e quindi ha un'influenza minore questi due parametri possono essere come si può vedere modificati e permettono di trovare una superficie armonica secondo il progetto anche in questo caso ovviamente questa superficie può essere creata come NURBS oppure può anche essere convertita in NURBS con tutte le possibilità ulteriori e comunque diverse di modifica di modifica